e tu sei su k radio guarda che ti controllo sei all'ascolto di k radio un'emozione nuova www.letteralmente.info dal passato un nuovo presente k radio bologna chiocciolagmail.com certo che piripicchio in prove sperimentali direi il mio regista che funziona è certo che funziona benvenuti mercoledì 25 agosto 2021 già 345 100 39 00 se volete intervenire in diretta anche per un semplice saluto perché alcuni sono ancora così in vacanza e c'è invece chi fa 13 15 18 ore per coprire le essenze di alcuni senza far nomi vero bonicini tanto per dire una bene 19 26 minuti primi 14 secondi 23 decimi benvenuti dalla rete di ferrara con la voice essi number one è sottoscritto maurizio dj in attesa che arrivano trick e track ti gilet i capellini le t-shirt le camicie gli adesivi con la grande k laboratorio k lancia anche che cosa beh ve lo dico nella prossima trasmissione che riguarda gli animali la consulta dove io farò parte anche come figura di presidente e ovviamente tutte le mie coccinelle tipo nadi mirasoli e adesso ancora tutto da definire francesca e le gattare insomma tanta gente collaborerà con noi come collabora è lui lui con i suoi messaggi vocali arrivati al 345 100 39 00 ma chi sarà lui ma chi beh ovviamente il dottor lambrusco è sentite un po vai 3 piatti di spaghetti bisognerebbe fare un foto montaggio lì beh sì ho tempo di fare anche fotomontaggio te che sei te hai il computer dovresti fare di prendere la mia foto qua lì con i spaghetti e ascoltami bene no ma scusa allora scusa poi devi trovare un piatto di spaghetti allora lo vuoi fermare ecco no sennò ti licenzio ecco sei in fase sperimentale qui capa radio e capa radio italia capa radio world e europa e poi bianca parà di bologna allora loris ripeto io probabilmente fino a lunedì martedì mercoledì prossimo entriamo addirittura forse a settembre non mi funziona nulla non so se mi spiego smartphone pc tablet aggiornamenti email cioè non mi funziona nulla perché stiamo rivedendo tutto come sa anche studio uno ci vuole calma armati di buona pazienza eccetera e per picchio manda gli altri messaggi del dottore e maurissio ho fatto l'ufficio per gli speaker per quelli che vogliono trasmettere prima devono passare davanti al mio cadavere si facciamo tiktok per prima regola se vogliono trasmettere da noi la regola è questa minimo minimo devono restare per un anno minimo esattamente seconda cosa se non vogliono più stare con noi poi dopo si troveranno la porta chiusa per sempre che dittatura oggi eh caro ma scusa da quanto scusami dal 6 gennaio 2022 cioè fammi capire Piripicchio nostro conduttore tecnico vuole pigiare il bottone i suoi messaggi vocali a 345 100 39 00 scusate se rido ma è lui il dottor Lambrusco vai vai pure tre piatti di spaghetti bisognerebbe fare un fotomontaggio lì te che c'hai il computer dovresti fare di prendere la mia foto qua lì coi spaghetti e ascoltami bene cambiamo gli studi a Ferrari poi devi trovare un piatto di spaghetti e devi unire due olive e devi prendere la mia foto coi spaghetti lo sai quale e devi mettere su i tre piatti da vicino fai ridere anche la saclina se vuoi ci riesci a fare una roba del genere beh si forse chissà io ci provo comunque ho se vuoi ci riesci a fare una roba del genere cosa devo fare su tiktok Maurizio lo sai una cosa ah ah sono diventato amico con gli ufo ah 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 Maurizio Lodi è molti uso fa anche da ufficio informazioni per qualsiasi informazione risponde sempre Maurizio Lodi ufficio informazioni Maurizio Lodi è molti uso Maurizio Lodi per una bottiglia di vino o fa qualsiasi cosa Maurizio Lodi per una bottiglia di vino o fa qualsiasi cosa si anche la Jacqueline in Lavan Cuisine prepara i fiori di zucchetto con gli asparagi al castello degli Estensi dove salutiamo anche Alessandro Serra che lo aspettiamo tra un po' adesso la guardia al pass non il green pass cioè il green pass tutti li abbiamo per carità ma il pass per entrare nei nostri studi nella Lavan Cuisine caro Serra di Forlì ti aspettiamo ricordo che siamo in diretta 19.32 minuti primi 36 secondi 26 decimi mercoledì 25 agosto 2021 pensate un po' trasmissioni sperimentali qui è K Radio già avete visto la novità poi vi interrogo anzi interrogo lui se sa cos'è KTV questa è una novità andate sul sito anche per ascoltarci www.letteralmente.info questa trasmissione che non sa di nulla di niente un po' insipida sarà il notturno day questa notte è il regalo che vi offre il direttore artistico che è il sottoscritto di K Radio da non confondersi anche se siamo in fusione con la programmazione Yoga Network che non c'entra nada de nada ok? bene oppure Note Web Radio che avrà tutt'altro un'altra sua programmazione ma è sempre l'editore il sottoscritto per quanto concerne Note Web Radio allora sentiamo un po' il dottor Lambrusco adesso lo interrogo se lui ha capito oppure se siamo ancora in alto mare dove c'è Cocco ma non il nostro regista perché lui è il mare ma non in alto mare in oceano ma Cocco e Drilli che sono un po' brilli eh Cocco e Drilli sono brilli hanno bevuto troppo Lambrusco e allora sentiamo lui è inutile sentiamo lui lui no sentiamo lei mi dice Piripicchio no sta cercando Piricchio il dottor Loris sta cercando Piricchio che è fratello poi di Piripicchio del tipografo oh stanotte il tipografo non lo faccio dormire no no si lavora e ovviamente io farò quasi 24 ore di lavoro e altro eh sì 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 intanto ci sono delle novità e va bene va bene regole nuove eccetera eccetera e sentiamo lui chi è lui beh l'importante è che lo troviamo eh vai pure Piripicchio allora signori questo è K Radio in diretta mondiale anche sui social network eh siamo anche sui nostri gruppi scrivetevi eh la nostra mail kradio bologna at gmail.com oppure notewebradio at gmail.com se volete collaborare pubblicizzare il brand eventi radio televisioni format scriveteci oppure telefonate per un appuntamento 345 100 39 00 e intanto intanto non c'è meno il dottor Lambrusco come facciamo come facciamo facciamo come quelli di Faenza che fanno senza eh allora 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 vediamo un po' cosa possiamo fare se riusciamo a trovare un autista per la nostra Gaia eh perché purtroppo ha qualche problema e così non possiamo dire oltre e vediamo la bellezza di 9-10 ore che Messer lo stiamo cercando è che il titolare ovviamente di 50 anni pensate un po' eh Diego eh con sua mamma che non c'è più dal nome Agnese ma intanto io devo interrompere perché deve essere arrivato Ugo ecco o il giornalista non lo so o è la guardia che mi dice che vuole andare in ferie allora qui non risponde un'anima allora signori e dobbiamo chiudere bene io vi do un forte abbraccio buon proseguo eh lo so lo so qui mi stanno chiamando tutti bene intanto io saluto anche i ragazzi ecco adesso chiediamo chi sei Ugo ah ciao Giovanni miei omaggi eh salutiamo anche Giovanni diretta mondiale e lo ringraziamo mancia per lui e direi di chiudere tutto la linea ritorna la rete mondiale i migliori saluti e alla prossima ciao ecco non è possibile chiudiamo regia chiudiamo la linea ritorna nella rete mondiale sei all'ascolto di K Radio un'emozione nuova www.letteralmente.info dal passato un nuovo presente K Radio Bologna chiocciola gmail.com sei all'ascolto di K Radio www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker Spotify e iTunes notizie ed eventi arte poesia cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio ascoltaci e visita il nostro sito Laboratorio K illumina la tua anima kradio bologna chiocciola gmail.com ehi tu sei su K Radio guarda che ti controllo sì ciao ciao due vi Grazie a tutti.